Salle riunioni della CGL Gremita martedì pomeriggio in occasione dell'incontro organizzato da Feder Consumatori Pesaro Urbino in merito al passaggio dal mercato tutelato al libero mercato previsto il 31 dicembre per quel che riguarda utenze di luce e gas. Tanti pesaresi che in queste settimane hanno infatti ricevuto lettere da parte del proprio gestore che invita a sottoscrivere l'offerta più conveniente sul libero mercato tra quelle disponibili nel proprio pacchetto, pena ritrovarsi a gennaio con un contratto applicato in automatico presumibilmente con costi più onerosi. Di fronte all'assenza di informazioni in merito Feder Consumatori Pesaro Urbino ha così organizzato un incontro per fare chiarezza su una materia complessa non aiutata da lettere difficili da decifrare. Non succede che venga sospesa l'erogazione della luce del gas, assolutamente. Ci sarà la continuità di erogazione per tutti. Certamente chi non sceglierà il nuovo gestore sul libero mercato si troverà con un contratto che sicuramente non sarà conveniente, ma questo non vuol dire che ci sia la sospensione. Questo lo vogliamo precisare perché alcuni gestori diciamo spregiudicati, soprattutto quelli che fanno il lavoro porta a porta, il lavoro telefonico, stanno contattando i cittadini dicendo loro che se non scelgono entro il 31-12-2023 avranno la sospensione dell'energia. Tutto falso. Questi sono, ripeto, i più spregiudicati. Ci sono anche gestori più seri che hanno inviato agli utenti la lettera, la comunicazione, spiegando loro cosa accadrà e qual è la proposta che il gestore gli fa per entrare nel libero mercato. Qui va detta una cosa, però, che molti gestori stanno proponendo un'offerta con scelta entro il 31 di ottobre, quando, ripeto, la scadenza del mercato tutelato è il 31-12-2023. Quindi non c'è nessuna fretta. Vogliamo tranquillizzare i cittadini su questo. Feder Consumatori preparerà a breve anche un vademecum informativo dedicato ricordando che quattro categorie sono escluse da questo passaggio. Gli ultra 75 anni, i disabili certificati da legge 104, coloro che beneficiano del bonus sociale energia e chi è stato danneggiato dal sisma e vive in abitazioni provvisorie. A livello economico può comportare un onere maggiore per l'utente perché oggi il gestore, in vista del passaggio al mercato libero, il gestore propone, fa un'offerta più vantaggiosa che se non viene colta e l'utente non sceglie, si troverà sì all'1-1-2024 continuerà a beneficiare dell'erogazione del servizio, ma sicuramente in quasi la totalità dei casi da quello che abbiamo capito con un costo maggiore. Ecco, quindi il mercato libero non va demonizzato perché dobbiamo ricordarci ad esempio che quando c'è stata la crisi energetica che ha visto per chi stava nel mercato tutelato gli aumenti vertiginosi che tutti abbiamo sopportato. Ebbene, chi aveva già scelto il libero mercato e aveva stipulato un contratto con prezzo fisso è stato, come dire, riparato da quel contratto perché non ha subito tutti gli aumenti che invece l'autorità dell'energia, la RERA, ha applicato per coloro che stavano nel mercato tutelato. Quindi il mercato libero non va demonizzato, prova ne sia che oggi, come oggi, il 60% degli italiani ha già optato per il mercato libero.